Il sole dentro, la storia di una lettera al Parlamento Europeo. La storia vera del viaggio di Jagging e Fodé, nascosti tra i carrelli di un aereo diretto a Bruxelles. L'avventura di due giovani calciatori, Tabo e Rocco. Me lo dici, ma che bella sorpresa che mi so fa! Mi so di no! Ti vieni con me? Eh beh dai, tanto la casa non è dove sei nato, è dove ti vogliono bene. Una casa che cercano attraversando l'Africa con un pallone. Questo è cos'è? Il mio fidanzato. Ma cos'è quello, si sa? Sise. Sise. Il sole dentro. La storia di due grandi amicizie, di incontri straordinari. Oh va, c'è la magia, faccio sperio da loro, guarda qua. Un autista prestigiatore. È un graggio. Un graggio a parte ciufoli. Un misterioso personaggio che costruisce aquiloni nel deserto. Cabo! Una donna straordinaria, quasi madre di venti ragazzi. Un console italiano, ma solo onorario. Cos'è che vuol dire onorario? Che non mi danno una lira. L'instancabile andare verso un mondo migliore. Un film di affetti speciali. Il sole dentro. Dal 15 novembre al cinema. Il sole dentro. Grazie a tutti.